Keto cioccolata calda, l'alternativa Keto alla classica cioccolata Per iniziare aggiungo l'acqua nel frullatore Hai bisogno di un frullatore, quindi può essere un frullatore da una tazza o un classico frullatore come questo che stiamo usando Due cucchiai di latte di cocco Se non hai il latte di cocco in polvere ricordati che puoi anche usare 150 ml direttamente di latte di cocco Ma questo in polvere è delizioso, super nutriente e non ti scade mai Perché così è sempre in polvere e lo prepari fresco ogni volta che vuoi Un cucchiaio di MCT in polvere Questi sono i nostri chetoni naturali, ecco perché questa è una Keto cioccolata Perché abbiamo i chetoni naturali dell'olio di cocco MCT In polvere, quindi lo porti sempre con te, è facilissimo anche da usare Un cucchiaio di eritritolo Eritritolo è il nostro dolcificante a zero calorie Ne puoi dosare, lo puoi dosare come vuoi Quindi può essere un cucchiaio come in questo caso ma ne puoi mettere anche di meno Dipende dai tuoi gusti e non avrai problemi con la glicemia Un cucchiaino di cacao Questo non è un normale cacao ma è polvere di cacao crudo, cioè non è stato tostato E quindi ha tutte le proprietà del cacao senza aver ricevuto la tostatura Che purtroppo rende molto tossiche alcune delle componenti del cacao Soprattutto lo spettro grasso perché quello lì crea parecchi problemi se lo vai a sottopore a quella cottura così alta come la tostatura Due cucchiaini di farina di banana Questa non è una normale farina di banana, è una farina di banana verde Quindi non ha zuccheri che entrano nel sangue ma ha solo zuccheri che vanno a nutrire la flora batterica E quindi un meraviglioso prebiotico Ed anche avendole fibre renderà questa bevanda molto spessa, proprio come una cioccolata E un cucchiaino di vaniglia Non stiamo usando altri grassi perché abbiamo già messo una bella dose di olio MCT Quindi non ha bisogno né di olio di cocco aggiuntivo o di ghee Rulliamo per 30 secondi Direi che ci siamo Ricordati più o meno 30 secondi L'unica componente un pochino più spessa è la farina di banana Quindi assicurati che tutto sia sciolto perfettamente Non solo ma da avere anche una bella schiumetta Che rende questa cioccolata veramente deliziosa Avendo il cacao è bella tonica Quindi anche una bevanda che puoi usare proprio veramente completa Ha tutte le componenti E ti può dare tanta forza, tanta energia E un'immediata sensazione di tono Ecco la nostra cioccolata Deliziosa La puoi usare come spuntino o addirittura come colazione Grazie a tutti.